Ma che cavolo? Oh, ma dove sono? Ah! Oh, no, 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 troppo pericoloso Dove mi trovo? Lo sapevo che c'era il tuo zampino! Che cosa ci faccio qua? Perché sono qua? Beh, non è palese, non è ovvio? No, non è palese, non è ovvio. Che cavolo hai fatto? Perché mi trovo... Non è capitano ovvio? No, mi trovo in una prigione di Bedrock. Fammi uscire! Giusto appunto. Giusto appunto cosa? Ti trovi in una prigione di Bedrock. Sì, ok, beh, 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 perfetto. Ora fammi uscire, dai. No, non se ne parla. Bella faccia? Bella faccia. Perché non riesco a raggiungerti? Come si dice? Come si dice cosa? Come si dice? Non lo so. Che cosa ho fatto? Perché sono qua? Mi fai uscire. Per? Perché? Per fa? Perché? Per fa? Perché sono qui. Per favò? Bella faccia, fammi uscire. Sei qui perché... Smettila. Sei qui perché mi hai fatto un sacco di scherzi in tutti questi anni. Beh, anche tu mi hai fatto gli scherzi. Non te l'ho fatti mica solo io, eh. Ed ora mi marcire. No, 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 no. Ma chi stai scherzando? Allora, dai, fammi uscire. Basta, dai, lo scherzo è bello. Mi sono tinto il tuo miglior amico in tutti questi anni. Ma che dici? Ma non è vero, ma non ti crede nessuno. E oggi? Eh. Cosa? Rimarrai qua per sempre. Io posso uscire con questo, lo sai? A mangiare patate velenose. Io con questo posso uscire, lo sai? Mi hai appena dato la chiave per uscire. Ma che puoi uscire, dai. Dai, ok, ok. Stavo blefando. Ma senti, ci sarà un modo per uscire, no? No. Non puoi essere così sadico che mi hai lasciato qua a marcire. Io devo fare dei video. C'ho dei fan, c'ho un canale YouTube. Silenzio, silenzio. Ok, ok. È a prova di uomo. Non è a prova di uomo, è impossibile. Addio. No, 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 no. Addio dove? Oh, dove vai? Bella faccia! Bella faccia! Se riuscirai a sopravvivere, torneremo amici. Eh? No. Cioè, tu mi stai guardando? Ma che se è un gioco per te? Ma sei malato? Voglio fare un gioco con te. Ok, d'ora in poi quindi posso fare ciò che voglio. Sì. Perfetto. Vabbè, no, ti frego. Beh, potresti stare lì. Ehi, non aprire quelle ceste. Perché ci sono delle ceste? Non aprile. Oh, le raggiungo tutte. Riesco ad aprirle tutte. Ho fatto male i miei calcoli a loro. Ci sarà... Oh! Ok, ho trovato qualcosina. Cos'hai trovato, piccoletto? Non ti interessa cosa ho trovato. Non potrai mai scappare da qui. Però non basta, non posso... Eh no, con questo qua non ci faccio niente. Kendall, ti ricordo che a breve la lava sotto i tuoi piedi. Ma che stai dicendo? Veramente? No, non è vero, non è vero. Devo trovare il modo di uscire, ragazzi. Devo trovare il modo di uscire. Che stupido, non è cieco. Sei proprio cieco, eh, Kendall. Oh, è quella? Oh no, l'ha visto. Ok. Ok, ora ne ho due. Bene, due più una patata con il veleno. Che cosa ci posso fare con due trattori? La patata col veleno la puoi mangiare. Aspetta, ho un'idea. Se piazzo questo qui, non fa niente. Oh, e invece no, mi rimpicciolisce. Bene. No, Kendall, stai buono. Quindi, se ora piazzo... No. Se faccio così... Non succede nulla. È tutto inutile, Kendall, morirei qui dì. No, 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 ragazzi, devo trovare... Devo mettere in moto i cricettini del cervello. Devo trovare il modo di uscire. Quanto manca alla lava? Alla lava, mio caro, manca un minuto. Ma com'è un minuto? Un minuto. Allora, aspetta. E il vetro si romperà sotto i tuoi piedi. Forse... Oh, idea. Idea geniale. Così. Aspetta. Così. Sarai imprisonato per sempre. Mannaggia. Ho capito. A mezzo blocco lo devo piazzare. Trenta secondi, Kendall. No, 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 sta zitto. Trenta secondi è un cavolo. Trenta secondi. Allora, se lo piazzo così, questo qua lo chiudo. No, così. Sei spazzato, amico mio. Deve esserci un modo. Sei spazzato. Oh. Non è possibile. Ha funzionato, sì. Non è possibile. Ti ho fregato, ti ho fregato. Lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Oh mio Dio! Ma guarda te, ti sei salvato per pochi secondi. Ma veramente mi volevi uccidere? Cosa ti sembra? Ok, allora, ci deve essere qualcos'altro per uscire da qua. Ci deve essere qualcosa. Non puoi uscire di qui. Sì che posso. Ne sono sicuro. Non sei così pazzo. Non puoi avermi chiuso senza un altro modo per uscire. Giusto? Non te ne puoi andare, mio caro. Siamo pur sempre amici. Guarda, qua c'è una fessura. C'è una fessura? Sì, amici, amici. No, c'è una fessura. Dannazione. Dove? Cosa devo fare? Dai, dammi un indizio. Potresti fare... Qua c'è un muro invisibile? No, non c'è niente lì. C'è un muro invisibile? Non mi fa andare oltre. Perché? No, c'è un muro invisibile. No, 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 dai. Un indizio me lo devi dare. Sarà bugato il tuo Minecraft, forse. No, no, mi fa andare avanti. Ci sto provando e non va. L'hai appena capito, Zegno. Vabbè, in ogni caso non c'è nulla. È tutto chiuso, quindi... L'hai appena capito? Perché c'è un muro invisibile? Qua devo andare. Oh mio Dio, ma tu sei un pazzo psicopatico. Mi vuoi morto. Fai un bel salto. Fai un bel salto nel vuoto, Kendall, dai. E cosa succede se faccio un salto? Se salto muoio ed esco da qua. E' semplice. No, ti ho impostato lo spawn point nella lava. Ma tu sei... No, tu lo sai bene. Ok, allora vediamo. Oh, botole. È inutile, Kendall. Non servono a niente? È tutto un tranello. È tutto anti-Kendall questa base. Ci deve essere qualcosa. Dannazione, non puoi essere così intelligente. Cos'è? Un parkour? Vedo l'uscita. Vediamo se sai fare il parkour, Kendall. Stai scherzando? A me mi metti un parkour? Vabbè, come vuoi. Potrebbe essere impossibile questo parkour. Ok, allora vorrà dire che uscirò. Aspetta, porca miseria. Perché non ci riesco veramente? Vai. Sei ancora in tempo per chiedermi scusa per tutto quello che hai fatto? E qua dove cavolo devo andare? C'è la botola? Forse devo aprire la botola? Oh no. E adesso, Kendall? Adesso che cosa? Ma perché ci sono delle botole così a caso? Ti sta andando in pappa al cervello. Io te lo giuro che mi vendico. Io mi vendico, bella faccia. È la volta buona che muori. No, tu devi dirmi... Allora, sei ancora in tempo per chiedermi scusa per tutti gli scherzi che mi hai fatto. E se ti chiedo scusa mi fai uscire da qua? Eh, vediamo, prova. Ok, scusa. No, no, non ti faccio uscire. Oh! C'è un blocco invisibile. L'ha trovato allora il nostro eroe. Va bene. Ok, ok. Ti ho chiesto scusa e non mi fai uscire. Eh, no, stavo mentendo. Sei malefico. No, adesso al parkour l'ho fatto e lo fai, scusa. Qua che bisogna fare? Eh, chissà cosa bisogna fare. Che bisogna fare? Oh! Oh! Un altro! Hai visto? Ok. No, mannaggia sono caduto. Ah, sei come una scimmia. Poco furba. Vabbè, tanto ho trovato il modo per uscire da qua, quindi ora ti distruggo, bella faccia. Ok. Ora così. Bravo. Per ora, ok. E adesso? Mannaggia. Vabbè, dai, ti stai divertendo però. Ma neanche per sbaglio, guarda. Ma sì che ti stai divertendo. Lo sto odiando, sei un maledetto. Ma no, ti stai divertendo, non dire cavolate. Ok, adesso che ho trovato il blocco invisibile, che devo fare? Vuoi arrenderti forse? No, non mi arrendo. Devo salire lassù. Tic tac, il tempo scorre. Tu hai messo qualche altro blocco invisibile, vero? Tic tac, Kendall. Vediamo. No, qua non mi fa andare oltre. Qua nemmeno. Tic tac. Così. Porca miseria. Perché tic tac? Cosa c'è? Il tempo scorre. Vabbè, non c'è tempo. Non è una prova a tempo, no? Tic tac, tic tac, Kendall. Basta, mi stai dando il nervoso. Beh, se non era qua, sarà qui. Picco qua. Ha funzionato. Mamma mia. Certo che li fai proprio coi piedi, parkour. Ma che cosa? Sei tu che sei in abberto. Boom. Guarda, guarda, guarda dove sono. No, 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 no. Forse tu non sai farli, eh. Sì, sì, sì. Oh, 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 oh. Io sento solo questo. Allora, devo fare questo, quindi. Fatto? Oh, sei fregato. Te lo giuro. No. Oh, manna... L'hai calcolato. Un cuore mi è rimasto. L'hai fatto apposta. L'ho fatto apposta, Kendall. Sei un genio del male. Rimpiangerai di essere nato, bella faccia. Ce la faccio. Tu credi che io non sia capace... Mannaggia. Dai, ti stai divertendo, in fondo. Sì, molto. La mia vendetta sarà molto divertente. No, non puoi vendicarti. Ah, no? Puzzà! Oh, no, oh, no. Sei fregato. No. E ora? E ora? Come faccio a uscire da qua? E ora non si può... Come faccio a uscire da là? Ehi. Dimmi la verità, bella faccia. Manca un pezzo del puzzle. Non posso uscire. Dove lo trovi? Ok, ho capito. Sei un pazzo psicopatico e evidentemente manca qualcosa. Ecco perché ci sono delle altre stanze. Cosa manca? Cosa può mancare? Ah, ci deve essere qualcosa. E qui invece cosa c'è? Ma stai scherzando? Eh no, mio caro. Trovato? Cosa hai trovato, scuso? Niente. Ehi! Ehi! Io li schiaccio tutti, ti avviso. No, non puoi premere il pulsante giusto. No, io li schiaccio tutti. Io li schiaccio tutti. Tanto uno sarà giusto, no? Non puoi essere così pazzo da non aver messo neanche il pulsante giusto. Andal, ma tanto non puoi scappare da questa prigione. Certo che posso. Un modo ci deve essere. C'è sempre un modo per scappare. Lo so che tu stai giocando con la mia mente. Stai cercando di farmi impazzire. Ma ci deve essere un... Non se la farà mai. No, 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 guarda. Oh! Oh, ma che cavolo! Cosa hai fatto? Aspetta, uno di questi pulsanti mi ha dato jump boost. E quindi, mio caro? No. No. E quindi? L'ho trovato. C'è un baule. Devo... Baule. Oh! Grazie, non me l'ho nemmeno accorto. Io pensavo di dover salire su quella finestra, invece c'è un baule. Sì, è sulla finestra. Oh! No. Oh, ci sono delle enderpearl. Guardate. Dammi, 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 dammi. Devo prendere l'altra. Le devo prendere tutte e due. Ok, due. Perché ce ne sono due? Eh... Lo scoprirai. Per uscire? No. Per uscire? Una la devi dare a me. Posso uscire da qua, no? Allora consegnami quelle enderpearl. È troppo rischioso uscire da qua. Ammetti che ha messo una barriera tipo di blocchi invisibili lì. E appena la tiro cado giù? Come fai a uscire? C'è un modo per uscire, Kendall. L'ho trovato. Ti prego non mi uccidere. Ah! Oh mio Dio. L'ultimo blocco. Non ci credo. Tu sei un pazzo sadico psicopatico. E adesso devi rifare tutto. Cioè ora devo rifare tutto il parkour. E io fino ad ora quindi l'ho fatto senza motivo. Sì. Io ti odio. Io ti odio. Non è possibile. Guarda che mi vendico. Mamma mia. Tu ridi, ridi, ridi. Ma poi io mi vendico. Che noncone. Questo salto è troppo difficile. Oh. Oh no. Scappa. No, Kendall. Scappa. Aspetta, aspetta, ferma. Oh, Ender chest. Molto bene. Grazie mille. Kendall, serve un attimo. Kendall. Sei tutta roba mia. No, un attimo. Un secondo. Sei morto, pollo. No, no, no. Un secondo. Sei morto. Sei morto e mi vendico. Parliamone, parliamone, parliamone. Va giù. Stupido pollo, inutile. Non ci provare mai più a intrappolarmi all'interno di una prigione di bedrock. Ride bene. Chi ride ultimo? Adesso che ho tutte queste Ender perle. Oh. Aiuto. 20 secondi salirà la lava. Aiuto, aiuto. Dove sono le botole? Tu speri di trovare le botole. Non ci sono più. E adesso sai cosa? Ti torturo. No, 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 no. Addio. Ups. Oh. Ups. Sei rinato proprio qua. Mi dispiace, ma adesso io mi vendico. Muori di nuovo. Io ti ho fatto uscire. E dove rinasci? Io ti ho fatto uscire. Ciao, bella faccia. La nasza è finita. Muori di nuovo, ho detto. Muori di nuovo. E vai, mi sono finalmente vendicato.